La strage del 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Pola 65 vittime tra loro donne e bambini, un attentato che accelerò l'esodo di Istriani, Giuliani e Dalmati. Lacrime per Vergarolla, scritta dal maestro Sergio Balestraci per stagione armonica di Padova, prima esecuzione assoluta ad Aquileia per i concerti in Basilica, un lamento in quattro parti, in latino, italiano e istro-veneto. Questo fatto così importante, proprio al momento della nascita della Repubblica Italiana, forse tanti italiani non lo hanno mai saputo o non lo ricordano. Allora il veicolo della musica è un veicolo forte e importante per rinnovare la memoria. Ad Aquileia anche la messa da Requiem di Hilde Brando Pizzetti, scritta nei terribili anni della Prima Guerra Mondiale, filo conduttore di questa edizione di concerti in Basilica. Dio Rosso, Iscriviti al nostro canale, Grazie a tutti. 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 a tutti.